che esistesse un rispetto della condizione femminile in quel paese, che non c'è. Possiamo vedere le manifestazioni delle donne di Kabul? Le eccole qua. Mettono a rischio se stesse, mettono a rischio le loro famiglie. Io le vorrei chiedere questo, Ministro, so che lei è molto sensibile da sempre al tema del bullismo, della prepotenza di chi è più forte su chi è più debole. Non le voglio chiedere qualcosa di astratto sulle donne afghane, perché tutti siamo d'accordo sul fatto che si debbono proteggere. Le voglio chiedere se le è mai capitato di dover proteggere qualcuno di più debole da un sopruso. Beh... Nella sua vita privata. Nella vita privata senz'altro, senza citare ovviamente i casi, ma il problema è sempre culturale di una società. Cioè l'istinto di prevaricazione viene da una cultura, a volte anche familiare, o del luogo in cui cresci. Quindi capita, e credo sia capitato a tutti, di difendere non sempre una donna, però spesso una donna dal tentativo di prevaricazione. Anche nelle nostre culture, anche nel nostro sud. Certamente, certamente. In tutti i poteri. Io non ne faccio una questione geografica. Lì stiamo parlando di un'altra questione. Cioè noi stiamo parlando di un approccio ideologico alla struttura sociale, in cui la donna è considerata una persona inferiore, anzi un essere inferiore, da quell'ideologia. Se quello è l'approccio, è chiaro ed evidente che dopo vent'anni e una serie di condizioni che danno le Nazioni Unite per continuare almeno a tenere ingaggiati dal punto di vista operativo le autorità afghane, noi ci aspettiamo dei segnali. Ma lo dico chiaramente, io ho detto, giudichiamo i talebani dai fatti e non dalle parole. I fatti non sono soddisfacenti. Lasciamo stare i talebani, torniamo nel nostro paese e così veniamo alla politica italiana. Anche nel nostro paese c'è un fatto culturale, c'è un tema culturale di inferiorità, come dire, conclamata. Nelle famiglie, a casa sua, chi comandava? Suo padre o sua madre? No, diciamo, di fatto sempre mia mamma. Poi l'autorità formale era in capo a mio padre, ma credo di non dire una cosa così stava. Troppo è condiviso. E lei quando deve prendere una decisione, una decisione importante, una decisione davvero importante per la sua vita politica, per esempio, o deve chiedere consiglio, con chi si consiglia? Con suo padre o con sua madre? No, in realtà ovviamente lo faccio con i miei consiglieri e con le persone con cui sono cresciuto in questa esperienza. Però capita nella vita, quando devi fare delle scelte di vita, quindi non stiamo parlando di quello che attiene al mio ruolo a ministro, che sicuramente sia mamma che mio padre sono un punto di riferimento. Poi per ognuno di noi succede che per alcune questioni ci si sente distinto di rivolgersi al padre e alla madre. Io con mio padre ho sempre avuto un rapporto un po' più complicato, che adesso fortunatamente va bene, e poi anche tra fratelli, no? Si fa squadra, si è più affiatati. Adesso, insomma, credo che tutte le famiglie siano così. Però è chiaro ed evidente, ne stavamo parlando. Chiudo il tema, scusi, non voglio restare solo, però sua madre è un'insegnante di latino, vero? Adesso è in pensione, si è stata un'insegnante di italiano e latino. E quindi anche questo, tornando alle donne del sud, una cultura di un altro tempo, eccetera, cioè una donna, diciamo che... No, assolutamente alla pari, assolutamente emancipata, su questo non c'è dubbio. Completamente atipica, e questo ha influito nella sua formazione? Sì. Se sua madre fosse così? Beh, sicuramente, come diciamo le caratteristiche dei nostri genitori influiscono sempre sulla nostra formazione, in bene o in male, è inevitabile. Però ci tengo anche a dirle che io non ne faccio una questione di sud, centro o nord, ne faccio una questione semplicemente anche di fortuna. Io sono stato una persona fortunata che è cresciuto in una famiglia in cui se mia mamma e mio padre lavoravano... Però penso, per esempio, che nel momento in cui ha dovuto mediare fra Grillo e Conte, magari le sarà venuto in mente qualche cosa di... Tutti portiamo nel lavoro quello che impariamo a casa, no? Beh, si dice, qualcuno dice che quelli che hanno più capacità di mediazione sono quelli che hanno visto troppe volte i genitori litigare. Non è stato così per me, però c'è questa cosa che viene... Detto questo, insomma...